Ultimamente un grande figura nel settore ha detto che forse oltre che agile dovremmo addirittura, non so se vi ricordate, i fantastici Barba Papà oppure Terminator 2 oppure ancora altre figure di Star Trek avevano la possibilità di cambiare forma. E quindi la nostra realtà oggi come oggi in Italia, un po' in genere per il mondo, dovrebbe essere che le aziende possano essere in grado di cambiare continuamente la loro forma per fare cosa? Per poter essere a volte rigide, dure e dirette, quasi come l'acciaio in alcune di queste figure, specialmente Terminator 2 in modo quasi anche inquietante, perché abbiamo bisogno di risolvere un problema velocemente e direttamente, senza avere una sovrastruttura complessa e dall'altra invece abbiamo bisogno di essere molto più liquidi. Grazie